Sono stati 300 i tamponi effettuati sabato scorso a Cassel San Giorgio. Si sono sottoposti al test Covid-19 i dipendenti del comune, i commercianti, i medici, gli infermieri, i dipendenti addetti alla raccolta rifiuti e i cittadini che ne avevano fatto richiesta. Lo screening è stato effettuato nella palestra della scuola della frazione Lanzara e reso possibile per la sinergia tra l'amministrazione comunale e la regione Campania. L'iniziativa è avvenuta quasi in contemporanea con la notizia che porta a Cassel San Giorgio a essere una delle comunità Covid-free della Campania. Infatti i cinque cittadini risultati positivi alcune settimane fa al virus, nei giorni scorsi sono risultati negativi ai tamponi effettuati dall'ASL. Abbiamo superato la pandemia, le cinque persone che erano purtroppo colpite, anche se in maniera sintomatica da Covid sono risultati negativi ai tamponi. Quindi abbiamo superato anche questa brutta esperienza.